Palazzolo Acrede, Casa Musea Uccello, dopo 5 anni e 4 mesi pubblicata la stipula del contratto di inizio lavori che adesso attendiamo. Il 10 settembre 2016, quindi 5 anni e 4 mesi fa, è stato firmato il patto per il Sud che finanziava per l'importo di 1.600.000 euro i lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello di Palazzolo Acrede. Finalmente, dicevamo, è stato firmato il contratto che è stato pubblicato sui siti istituzionali. Certo, non possiamo dire di essere particolarmente soddisfatti essendo trascorsi più di 5 anni dall'atto del finanziamento che della scorsa legislatura. Spesso si accusa la politica di non essere in grado di rispondere agli interessi del territorio e ai bisogni della gente, però non sempre la responsabilità appartiene alla politica, come in questo caso. Infatti, sono passati tanti anni prima che si potesse firmare il contratto e non sappiamo quando si concluderanno i lavori. Tuttavia, il dato positivo che vogliamo sottolineare è che finalmente i lavori inizieranno e ci auguriamo che, insieme ai lavori della Casa Museo Antonino Uccello, si possono sbloccare tutti i rimanenti lavori ancora bloccati per la città di Palazzolo. Lo comunicano l'On. Vincenzo Lunciullo, Presidente Merito della Commissione Bilancia, autore dell'Ordine del Giorno, che successivamente consentì l'approvazione del finanziamento, il Dottor Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acrede.